Sono Nino Leggeraci, founder di Olimpica, giornata meravigliosa perché finalmente oggi abbiamo deciso che dal 6 al 7 dicembre realizzeremo il torneo Molise e Sports insieme a LND proprio a Campobasso e quindi finalmente inizieremo a portare avanti quello che era l'idea di organizzare un torneo che fosse coinvolgente, che coinvolgesse anche tutte le strutture del Molise e delle regioni limitrofe di LND nel mondo degli esports. Adesso ci metteremo subito a lavorare su questo torneo e nel frattempo oggi ho avuto l'occasione anche di parlare con altre realtà, è stato interessante anche confrontarsi con realtà anche diverse e vedremo chi di queste realtà potremmo coinvolgere nei futuri eventi che andremo a organizzare nei prossimi mesi insieme a LND per parlare sempre di sports, di diversity e inclusion e di promuovere sempre di più il progetto Vinciamo Insieme.